Buona la prima come sempre. Ciao a tutti quanti, è un periodo in cui non vediamo che a te le dico me. Allora, il problema è molto semplice, mi sono separato. Ma no, mi sono separato, non mi sono separato, dopo 40 anni, cosa vuoi che mi toga su? Mi sono separato dall'Amsa, il sindaco lo cambia, lo dice che vuoi, tu puoi venire, tu roba nuova, e allora sono restato via e non ho avuto tempo di venire a fare te le dico me. A parte il fatto che dopo che c'è anche un problema con il Fabietto che l'ha inventato, telegarda la televisione e tutte queste robe, per un periodo cercherò di starmi via. Invece il Beppi, il Beppi, l'ha letto il giornale, l'ha detto, allora l'Amsa, il presidente dell'Amsa sarà il veronesi, e c'è anche un pochettino, cioè il veronesi per il veronesi, è venuto fuori che invece che il Beppi veronesi, gli ha detto che è il renato veronesi. Allora adesso, tu hai metterci a fare il cogo, anche se col tempi che corre qui intorno, c'era su un po' tutti i ristoranti, non so dove ti tockerà andare a fare il cogo, Beppi, non so, piscina, oppure fare qualche manifestazione sul Viale delle Palme. Bom, allora, da che si comincia in via, volerei raccontarvi quel che mi è successo la settimana passata, una roba stranissima. Allora, arrivo a casa a bere le sette, sette d'ese, no? Ero stacchi al circolo, ho fatto una partita a biliardo a bocette, e ho perso anche, fra l'altro, ho perso anche la bella con il mio amico Carluccio Minati, no? Al 41, vado a casa un pochettino, cioè mi rincresceva aver perso la bella con il Carluccio. Arrivo dentro alla porta di casa, vado dentro, è l'ora di venire a me dire la mia sposa, io non ho capito che la mi dice, sono andato al bagno a lavarmi le mamme, vado fuori a dire, che vuoi fare la sera? Ma che sera è sera? Ma sai che stasera vado a andare a fare le dimostrazioni della Franca? Le dimostrazioni? Che dimostrazioni di cosa? Vado a dire, beh, 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 che ormai ho usato per notare, e non sta, non serve che ti stieni, perché quando fa le dimostrazioni è sempre da mangiare. Vado, la Franca l'habita la scala lì da là, nel lì, sono il campanello, sono il campanello, la vi fuori, muoveva e muoveva senza dire che si cominciano a me dire la Franca. Mi vado a dire con le mamme, insomma, le mamme in carcere, che saranno queste dimostrazioni che ho detto, e mi ha detto, sentite lì, mi ha detto, perché sono sentato lì nell'angolo della cugina, no? Non ancora, non ancora sentato, vado dentro un po' di un uomo, un uomo, un uomo, e va lì, dove c'è il gas, pissa il gas, mette su una padellata così, e tira fuori dalla carcere due bustine, una salda e una marone, e la buttò così, e dà una misciata, dopo mezzo minuto, e ribalta fuori sulla tavola, no? Allora, sette, otto porzioni di polenta e poccio. Io ho fatto un salto così sulla carrega, come avrà fatto questo? E dice, i nuovi prodotti, con le nuove padelle che c'è al di Dancoi, secondo me il peso di me così, il mago, c'è che c'era sotto qualcosa di strano. Allora, sta lì fermo in te l'angolo, vuoi capire come che la fanno, no? Tira via la padella, mette lì un'altra piccolina così, tira fuori dalla carcere una busta salda, puff, e dà una misciata, no? Mezzo minuto anche lì, e dà fuori sulla tavola una pizza gorgonzola e salamino grande così. Vuoi dire, volevo scampare, vuoi dire, no, no, questo è proprio il potere che ha le padelle, no? E che dice questo? Mi arrasavo io un mal di testa. Non ho ancora finito di capire come che la fanno, perché la pizza gorgonzola e salamino la mi piace. Non ho capito, non ho capito. Arriva dentro una signora, tu la vedi dentro, buonasera, sono quella delle tupper, 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 non ho capito. La tavezza è un borson grande così, no? La sguazò sulla tavola tutta, e vieni fuori ceppe, ceppette, e padellote grande così, querci, quercetti, e molto di roba, no? E la dice, questa qua, la dice, vedi signore, la mi guarda, mi, come mi fosse stato più intelligente che era lei, che non capivo niente. La mi dice, questa qua, quando lei, non so, a pranzo, no? Ci sono degli avanzi, non so, la sposa la fa, la pasta su, le mette dentro qua, no? Le mette in frigo, può mangiarle tranquillamente, dopo una settimana, hanno lo stesso sapore. E va là, Dio, i avanzarotti a me casa, basta che vengono bene odo, e spassano la via tutti, e poi immaginate che i avanzarotti, per farvela corta, 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 tutti quanti a comprare qualcosa, no? Anche a me non sapevo che fare, ho detto, vabbè, Dio, ho comprato, e la ho sei gran così da mettere, quando ti cavi via la bottiglia del Teorodico, ho messo quel lì, ho dato tre euro, quattro euro, almeno la mi guarda, e intanto era lì che fai tutte queste cose, Dio, Michi, che me la taglia, perché non è nel mio posto, faccio per alzarmi dalla porta, e vi ho detto, Beppi, in te di gnocca, in te di gnocca ti puoi neanche immaginate. E non te mai chiamate. No, non te chiamate, e mi vieni le angosce. Ora ho detto, ti vedrai che questa qui è quella che fa, non so, magari la fa dimostrazione dei costumi da bagno, è meglio che mi fermo a cinque minuti, no? Ora mi sono sentito un'altra volta, questa qui invece, e mi sono manca a scrivere, perché è un po', l'acqua facile che mi trasmetto. La mi fa, signori, io sono la signora che per le creme, le creme, che sappia a me, ora mi sentite l'angolo, ora questa qua la tira fuori le creme, no? L'ho scritta. Allora mi dice, vedete, questa qua la tira fuori una cremetta, la scomincia a fare, la dì, vedi, questa qua, la dì, è la tritri. La tritri? Sì, la dì, la puoi servire come antibiotico, manca se te gai spistola alla Fernanda. Ora dì, la signora la scomincia a guardarsi una con l'altra, dopo la tira fuori un'altra, la dì, questa è la crema a piedi, la va bene, se te spistola ai piedi, manca se te gai l'herpa su per i lavori. Ho dì, ma, Dio, questa qui deve essere una roba, una roba fuori del normale, io non ho mai conosciuto queste cose qui. Dopo la mi dice, la calendula, te la droppi anche se te sbugi la bicicletta, la serva, dopo la tira fuori la malva, il timo, la lavanda. Allora io ho pensato, Dio, dovrai che qui la impeccate, se non siete male a non poter usare tutte queste cose qua, no? Dopo te, la mi guarda e la mi dice, scusi, lei è disponibile a fare la prova? Mi sono tratto in terra, ho detto aiuto, stavo male, stavo male. Allora, intanto che la dì, la Franca, la che ha detto alla mia sposa, va dentro un cosina e fai una camomilla, no? Lui è camminato, mi dice, c'è pa, la porta delle scale, della porta, sono da sopra le scale, sono delle cose, arrivo al primo piano, c'è uno che va su con te in materas, gran cosi, due cosini, mi dice, scusi signore, dove fanno la dimostrazione? Va a Monaco, e passa solo dalla tromba delle scale e va a casa. Dopo un'ora, vai la mia sposa a me, sei il solito maleducato, mi non vorrei mai pensare che ti comportessi così. Le mesi che dicevi di cambiare il materas, proprio la sera, che vai per la dimostrazione ti devi camminare. Ho detto, sta attento, mi raccomando, allora, la prossima volta che ho la dimostrazione ti vado alla Franca, fai tu quello che ti vuoi, mi sono contento per ti, però piuttosto di venire ancora a fare quelle cose lì, vado nella sciarca quando è piena e mi trago tutto. Allora, né me, né Beppi, né Telegarda, abbiamo deciso che alle prossime manifestazioni nessun stif a mangiare polenta con lui, ma lì non venire mai. Alla prossima vi saluto e mi auguro che vi augure in te. Tutto il bene di questo mondo. Tutto il bene di questo mondo. E alla prossima volta, al posto del Renato, se non è il Gatem, il Beppi può fare lui presidente dell'Aus. Con i titoli. Con i titoli. Con i titoli.